Benvenuti alla Night Session di domenica 30 gennaio. Sono le 23.22, tardissimo, ma è stata una bella giornata di saldi. E quindi ci dedichiamo a Bitcoin soltanto adesso. Ieri avevo segnalato che c'era un errore nella centratura, ovvero che qui finiva a 23 barre solo, non 24, già successo un paio di altre volte almeno, il quarto T-3. Chiudeva, peraltro, un ciclo a 4 giorni in T-1 rialzista e da qui partiva insieme al quinto T-3, al quinto ciclo giornaliero, anche un nuovo T-1. Quando però sono costretto a rimettere a posto i cicli sotto i minimi e a districarmi durante un periodo di lateralità molto forte, come vedete, significa che, come al solito, stanno cercando di confondere il più possibile le acque prima di fare il loro movimento. Per cui suggerisco sempre di fare estrema attenzione. Ieri che cosa dicevo? Ieri, in sostanza, vi dicevo che anche se fossimo andati nelle candele successive qui sopra, sopra questo massimo a 38.898, non avremmo dovuto andare long. Perché? Perché, secondo anche la vecchia centratura, che faceva partire da qui il terzo T-3 inverso, qui ci saremmo arrivati in 22 e qui saremmo arrivati, eventualmente, qui sopra, oltre le 24 barre. Quindi, come vi dico sempre, gli swing sono importanti, ma devono sempre essere ordinati a tempo e a volumi. Quindi, qui, a parte che il tempo non c'era più, e non sono arrivati neanche i volumi, non c'è stata alcuna ovvilazione, e quindi, niente long da fare. Ci stanno facendo un po' aspettare prima di arrivare qua. E abbiamo perso forza. Mi auguravo che questo minimo a 37.347 sarebbe stato sorpassato ribasso da questo, che però ha fatto 386. Perché? Perché se avessimo fatto qualcosa di meno ancora, o se volessimo fare ancora qualcosa di meno, perché qui non è detto che sia partito l'ottavo di meno 3, abbiamo ancora teoricamente 4 barre, però e va fino a 44. Se andassimo sotto, creeremo la condizione sufficiente per la chiusura di che cosa? Di questo t settimanale, con un ciclo t-3 ribassista, e a quel punto potrebbe partire un settimanale che ci proietterebbe sopra qua, sopra i 38.935. Potrebbe farlo, attenzione. Quanto tempo abbiamo ancora? Perché la cosa fondamentale è quella. Abbiamo detto che il tempo che stringe è questo, ecco perché abbiamo guadagnato dagli ultimi long, perché abbiamo cercato il rialzo, riflettendo sul fatto che mancano solo più due giorni agli 84, che ci portano a chiudere potenzialmente il nostro t più 3 inverso, il nostro trimestrale inverso. Tutta questa roba qua. Uno e due, oppure uno. Ok? Abbiamo bisogno, entro due giorni, entro dopodomani, di andare a finire qui sopra, sopra i 38.935 euro pari nella data rifatti. Peraltro, qui forse devo correggere, esatto, siamo a 5 su minimo 6 giorni di inverso. E quindi, se anche ci andassimo entro due giorni, faremo 7 giorni di inverso, chiuderemmo con un t inverso, un ciclo settimanale inverso ribassista, cioè sopra o a pari di questo massimo, tutta la struttura che ci dicevamo e poi ragioneremo se ci sarà un raccordo, se tutto quello che volete. Perché come al solito bisogna metterli in conto tra cicli grossi come i t più 3, i cicli trimestrali anche inversi, i raccordi. Cioè, finta ribasso e un po' rialzo nel caso di inverso. Lato indice, tutto torna, sì che aspita, siamo a 7 giorni, abbiamo tutto il tempo per andare a chiudere oggi con quel minimo di cui vi dicevo e poi far partire un nuovo t settimanale domani. Non troppo forte magari perché ci ricordiamo che la struttura è in interna a un t più 2 mensile che si è già vincolato completamente a ribasso. Tempo. Siamo arrivati alla durata minima di un annuale. Eccola qua. Bisogna arrivarci con un minimo, bisogna ritornare qui sotto se vogliamo andare effettivamente in chiusura, ma abbiamo 194 barre su minimo 182, preferisco 194. Quindi, teoricamente il piano sarebbe dentro due giorni salire, superare questo massimo e poi iniziare di nuovo a ridiscendere. Vi ringrazio per il vostro tempo, come al solito i dettagli, i livelli e tutto il resto li darò nel gruppo premium. Vi ringrazio per il vostro tempo e buonanotte a tutti. Arrivederci.